La richiesta per questo disegno era un drago enorme che volasse in volo, solo che lo spazio che occupava era troppo orizzontale, quindi poi abbiamo deciso di fare questo drago che doveva essere mastodontico sulla cima di una montagna, doveva essere grande come una montagna, da lì l'idea di mettere il cavaliere molto piccolo. Qui ho fatto una serie di bozze da proporre al cliente per mostrargli diverse impostazioni, diverse possibilità. Lui ha scelto quella che più gli piaceva e da lì ho cominciato a sviluppare il disegno a computer. Questo l'ho realizzato praticamente tutto a computer, perché mi sono reso conto che volevo sperimentare e quindi non avevo voglia di sprecare troppa carta, continuando a fare bozze, ridisegnarle, rivedere. Quindi al computer tutto diventa più semplice, perché se non ti piace qualcosa lo rifai, lo gestisci. Per il cavaliere avrei visto che ho usato come spunto il famoso quadro di Napoleone. Per il drago mi sono ispirato a diverse immagini di draghi che ho selezionato prima di partire, perché lo volevo realistico, ma allo stesso tempo non volevo che sembrasse semplicemente un enorme lucertola. Quello che volevo creare era in particolare quell'espressione che hanno i rettili, in particolar modo più che altro gli uccelli, quando guardano qualcosa in terra e hanno questa testa un po' piegata e un po' sorpresa di quello che stanno guardando. Hanno sempre questa faccia un po' stupida e mi piaceva l'idea di riproporre l'idea di questa faccia un po' inclinata, del muso un po' inclinato del drago, che guarda questo cavaliere, come per dire ma stai facendo sul serio? Da qui il titolo del disegno appunto, Ario Sirius, cioè è talmente minuscolo questo cavaliere che l'idea che con quello stuzzicadente possa fare qualcosa di male a questo enorme drago è veramente ridicolo, però fa parte del progetto. L'idea era proprio di questo drago mastodontico enorme, più grande di una montagna al tramonto. E mi piaceva anche l'idea delle nuvole alla base della cima della montagna perché rendono ancora di più l'idea della dimensione, della maestosità di questo drago. Qui mi sono liberato per un attimo del drago e mi sono concentrato sul cielo, cosa non semplice perché in questa fase della giornata, quando siamo al tramonto e la metà cielo è praticamente ancora azzurra, l'altra metà sta diventando rossa con delle tonalità violacee, non è diciamo la cosa più semplice da rendere, però penso di esserci riuscito, di aver reso bene l'idea. Chiaramente mi sono anche munito di una serie di documentazioni e di immagini da cui prendere spunto e valutare esattamente che tipo di colori ci sono. Qua siamo nella fase praticamente dello stencil, il disegno è quasi completamente fatto e sto semplicemente delineando lo stencil, delineando le linee su cui poi si baserà il disegno. Ecco lì c'è il drago che mi è servito come ispirazione, in particolar modo per le corna. Il lavoro è proceduto in modo semplice, piacevole, qui in questo caso ho usato delle immagini 3D che ho di diverse corna, che uso come riferimento, ne ho scelte due che mi piacevano e le ho modificate e distorte in modo da ricreare queste enormi enormi corna. Chi mi segue sa che non mi piacciono i tatuaggi che sfumano nel nulla, io preferisco sempre avere una sorta di cornice, in particolare uso spesso gli esagoni, sia per le braccia che per progetti come questo sulla schiena. In questo caso per le ali ho preso come riferimento un vecchio tatuaggio che avevo fatto credo non lo so 10-15 anni fa, mi piaceva come avevo trattato le ali e il riflesso e quindi sono andato a ripescarlo per vedere come avevo gestito in quell'occasione. Non so nemmeno come si chiamano, in quel caso sono le ali, però quelle protuberanze di pelle che seguono queste spine che passano dalla testa e seguono su tutto il corpo. Mi piaceva molto l'idea di avere appunto le ali quasi da pipistrello e quindi attaccate, insomma le ali attaccate direttamente alle braccia anteriori. In questo caso sto facendo una sfera, cosa che spesso faccio per ricreare tutte le sfumature in modo che su una piccola porzione ho tutto quello che mi serve, tutti i riflessi che mi servono e da lì poi procedo, proseguo a rifinire il mio disegno. Non c'è molto altro da dire sul disegno, sarebbe spiegare cosa ho fatto tecnicamente, onestamente è stato un lavoro di almeno una settimana di lavoro, forse anche due, e quindi condensandolo in 10 minuti risulta difficile, soprattutto a distanza di tempo, ricordare esattamente cosa ho fatto e cosa non è stato fatto. Una cosa che ricordo è che ho modificato le nuvole e lo sfondo in corso d'opera, perché mi sono reso conto, qua si vede adesso, che le montagne in basso le avevo fatte grigie, però al tramonto è impossibile che quelle montagne siano grigie, risentiranno ovviamente dei riflessi del tramonto, della luce di quell'ora del giorno e dei riflessi che arrivano anche dal cielo. Quindi stupidamente, beh direi più ingenuamente, o forse anche per stanchezza, mi sono reso conto solo durante la lavorazione, quando sono arrivato in quella parte del disegno, e mi sono detto, ma non è possibile che quelle montagne siano grigie, probabilmente le avevo fatte grigie, pensando di colorarle successivamente, e poi probabilmente mi sono dimenticato, perché quando hai un disegno così, sai, se lo vedi in 10 minuti, in una dimensione ridotta, sembra che ci sia poca roba, ma quando ci lavori per settimane, ti rendi conto che c'è veramente l'universo, dalle squame, alle zampe, le ali, i riflessi, non saprei come chiamarle, non so come si chiamano quelle parti di pelle collegate alla cresta, le corna, il cavaliere, il tramonto, insomma c'è veramente di tutto e di più in questo disegno, e quindi, vabbè, qualche sbaglio può capitare. Qua sto modificando le corna, sto facendo gli ultimi ritocchi del disegno, quasi sicuramente ritocchi che ho fatto qualche giorno dopo, in genere quando finisco un disegno, lo lascio lì a, diciamo, a maturare due o tre giorni, di modo che poi lo rivedo con degli occhi diversi, e vedo se c'è qualcosa che mi disturba, che voglio correggere, modificare, e quindi magari aggiungo riflessi, come in questo caso, cambio, insomma faccio delle piccole modifiche qua e là per arrivare ad un punto in cui sono completamente soddisfatto. Questo è il mock-up sul 3D che ho proposto al cliente, e qui è cominciata la lavorazione. Nella prima seduta non ho fatto altro che applicare lo stencil e tracciare tutto il disegno, come faccio di solito, con un ago da contorno abbastanza sottile, o comunque che sia adatto alla lavorazione che devo fare, e con un grigio, un grigio medio. In questo caso, appunto, non avevo intenzione di partire con dei contorni neri, netti, ma avevo intenzione appunto di fare una cosa un po' più realistica, quindi usare meno contorni netti e usare più i contrasti dei colori per creare il disegno. Ora, le tempistiche non me le ricordo. L'unica cosa che ricordo è che in alcuni casi, qua siamo già alla seconda seduta, chiaramente ho deciso di partire dal fondo, qua la telecamera vedevi che si stava adagiando, perché praticamente il supporto non era stato stretto bene, e quindi ad un certo punto mi sono ritrovato la telecamera in testa. Quindi ho risistemato l'asta e ho ripreso. Tra l'altro uso un'asta da microfono e l'iPhone come telecamera. Pesa poco, l'asta del microfono costa poco, rispetto a un cavalletto professionale adatto a questo tipo di riprese. Attraverso l'iPhone, con un'applicazione, registro praticamente direttamente sul computer con il software OBC, che è un software che si usa per questo tipo di cose. È molto comodo perché chiaramente il telefono ha la sua capacità, una capacità limitata, e invece di dover costantemente fermarmi, controllare che ci sia ancora abbastanza spazio sul telefono per continuare le riprese, eccetera, eccetera, io con il minimo costo, praticamente il mio telefono è un'applicazione che credo di non aver pagato più di 6 o 7 euro, e con un'asta da microfono che credo di non aver pagato più di 35, 40 euro, quando un cavalletto professionale molto probabilmente, credo che si aggiri almeno al triplo, al quadruplo di quel prezzo, uno appena decente, e quelli con l'asta a sbalzo, per poterla mettere sopra in genere, hanno l'asta troppo corta e se è abbastanza lunga, sono molto molto costosi. Mentre così, con un'asta da microfono, un telefono e un paio di applicazioni, io faccio le mie riprese, e mentre faccio le riprese non devo preoccuparmi appunto di quanto lavoro, in genere io attacco, lascio andare la ripresa, non la interrompo nemmeno durante le pause, la lascio andare e alla fine della giornata, alla fine del lavoro, da computer vado a rivedermi la ripresa, e devo semplicemente tagliare le zone in cui abbiamo fatto appunto delle pause, cosa abbastanza semplice, perché alla fine dei conti, quante pause vuoi fare? 3, 4, 5, qualunque numero di pause tu faccia, comunque ti guardi il video velocemente, e sono facili da trovare, quando vedi che la poltrona è vuota, sai che lì c'è una pausa, e quindi tagli quella parte, qui ora non ricordo in quale fase, in quale seduta sono, credo sia la seconda, la terza, non lo so, però come vedi le montagne hanno una tonalità completamente diversa da quella del disegno che era grigia, hanno una tonalità che è più adatta appunto, alla tonalità che avrebbe con un tramonto, che rende il tutto abbastanza rossastro, e in questo caso ho fatto ovviamente come dicevo, tutto lo sfondo prima, primo perché è più semplice, secondo perché, non lo so, perché mi piaceva partire dallo sfondo, ho deciso così, ho deciso che prima avrei fatto lo sfondo, dopodiché sarei passato al drago, e come ultima cosa avrei lasciato il cavaliere, le sedute sono state abbastanza serene, anche se devo dire che ci abbiamo messo molto più tempo del previsto, più che altro perché ci sono clienti con cui c'è una particolare affinità e quindi si passa molto molto tempo a parlare, ce ne sono alcuni con cui non si parla di nulla, si lavora e basta, ce ne sono alcuni con cui si parla veramente di tutto di più, che ti stimolano e quindi finisce che magari passi veramente tantissimo tempo a parlare e il tempo che rimane per tatuare diminuisce, magari ti prendi una pausa, pensi di fare una pausa di 5-10 minuti e ti ritrovi a parlare di qualunque cosa per un'ora e mezza, fino a quando guardi l'orologio e dici oh cazzo, non abbiamo fatto niente oggi e quindi si corre ai ripari. Questo è uno di quei casi in cui abbiamo parlato molto e infatti c'era un cliente che diceva praticamente io non vengo a tatuarmi, si può dire che vengo a trovarti quando vengo a tatuarmi perché passiamo più tempo a parlare che a lavorare. Però vabbè è piacevole, è anche questa una delle cose belle di questo lavoro che ti permette di conoscere persone interessanti, persone stimolanti con cui si instaura anche un rapporto magari di amicizia un po' troppo. L'amicizia in genere è qualcosa che si coltiva nel tempo con la frequentazione, mentre qua spesso e volentieri per quanto positivo sia un rapporto, anche dato dalle distanze, è difficile che si tramuti in amicizia. Comunque è insomma un ottimo rapporto di cortesia e questa è una cosa bella perché ti permette di crescere anche umanamente. L'unico limite, tornando al lavoro, perché parlando delle chiacchiere mi stavo perdendo in chiacchiere, una delle cose che mi ha messo un po' in difficoltà con questo lavoro è la tonalità del cliente. Come dicevo ha una tonalità abbastanza giallognola, ambrata, non so nemmeno se sia corretto chiamarla ambrata, comunque giallognola e quindi non c'era il contrasto che mi aspettavo soprattutto sui contorni. E infatti sui contorni sono intervenuto successivamente facendo un gioco di ombre, di chiaroscuri attorno agli esagoni per far risaltare meglio il disegno. E poi questa tonalità tende un po' ad appiattire un po' tutti i colori. Non così tanto dal vivo, più in fotografia. Infatti come dicevo prima non sono purtroppo un gran fotografo, dovrei fare dei corsi, cosa che avevo fatto anche tempo fa, ma effettivamente non sono un gran fotografo, purtroppo. Ed è un peccato perché chiaramente io vivo di fotografie. In particolare in questi casi, quando c'è una tonalità particolare, probabilmente dovrei fare delle fotografie, anzi quasi sicuramente rifarò delle fotografie con il flash o con la lampada sciallitica che uso per lavorare. perché chiaramente qua la tonalità dei colori è molto molto migliore che ripresa all'esterno. All'esterno dipende sempre dall'orario, se hai il sole a favore, se hai il sole contro. Insomma, vabbè, saranno cose che vedremo in futuro. Per quel che riguarda la lavorazione non c'è molto da dire. una volta che hai il disegno, il disegno è fatto bene, a parte qualche modifica del caso che può essere necessaria perché non sempre le tecniche che si usano sulla carta o sul computer sono poi così semplici da replicare. Ovviamente io ogni volta che creo un disegno per un tatuaggio tengo a mente che quello che dovrò eseguire sarà su pelle e quindi mi evito tutta una serie di trucchi che sono facili da creare sia al computer che su carta ma non sono proponibili poi su pelle. Quindi ovviamente è un po' limitante perché da ex illustratore chiaramente avrei un sacco di trucchi e di tecniche da mettere in atto per creare dei disegni migliori, delle illustrazioni bellissime però ci sono dei limiti che ha la pelle e che la carta non ha e quindi a volte appunto risulta limitante nella realizzazione del disegno ma rende il lavoro facile quando poi devo lavorare su pelle perché chiaramente bisogna tenere conto di queste cose. Ci sono cose che sono facili da fare su carta ma su pelle non si possono realizzare o comunque non si possono realizzare così facilmente e velocemente e trovo assurdo spendere ore e ore per dei piccoli trucchi che poi magari per cui non ne valsa la pena magari cioè magari perdi fai un trucchetto che al computer ti richiede che ne so dieci minuti ed è fatto e poi però ti richiede mezza giornata di lavoro su pelle per ricreare quel trucco perché la pelle ha i suoi limiti in fin dei conti usiamo degli aghi dobbiamo bucare la pelle per far entrare l'inchiostro le sovrapposizioni in alcuni casi si riescono ad ottenere in altri casi sono molto più complesse da ottenere dipende dalle tonalità di colore che stai usando dal tipo di effetto insomma ci sono tutta una serie di cose che chiaramente si imparano con il tempo con la dedizione con l'esperienza e anche anche facendo questo tipo di lavori perché chiaramente se fai un lavoretto magari credi di aver fatto un bel lavoro e ti ha richiesto mezz'ora un'ora metti anche due o tre ore e poi quel lavoro non lo vedi più ti manca una base di esperienza invece fare lavori grandi chiaramente ti permette di vedere quel disegno quel tatuaggio più e più volte nel corso di un anno un anno e mezzo quindi non solo vedi come guarisce ti rendi conto di come reagisce la pelle ti rendi conto di tutta una serie di cose ti rendi conto anche di eventuali sbagli e quindi chiaramente questo ti porta a migliorare sempre di più e ad imparare a gestire il lavoro in modo migliore purtroppo manca l'ultima ripresa perché il mio telefono si era rotto proprio prima dell'ultima seduta in cui avrei colorato la testa del drago e avrei fatto dei ritocchi quindi purtroppo manca l'ultima ripresa mi spiace quindi non resta che guardare il lavoro a un mese di distanza dall'ultima dall'ultima seduta grazie per aver guardato il video iscriviti al canale clicca sulla campanella e ci vediamo alla prossima